Salaam Aleikum, siamo qui in questa splendida giornata estiva per presentarvi un gioco di magia fantastico, parlo al plurale non perché il cervello mi è andato in pappa ma perché ho qui un mio amico che si chiama Arturo, ciao a tutti ragazzi sono Arturo, devi dirlo a me io lo so, devi dirlo alla telecamera e dov'è davanti a te, ciao a tutti ragazzi sono Arturo e chi sei presentati vai, sono Arturo e sono un suo amico purtroppo, a parte che purtroppo dovresti esserne fiero, io ne vado fiero e io ne ho patata lessa, va bene ripartiamo ok, vai, ciao a tutti siamo qui in questa splendida giornata estiva e sono con un mio splendido amico che si chiama Arturo, è amico, che amico è amico, io sono qui perché mi ci ha portato ero tranquillo nella mia valigia, mi ha preso e mi ha detto andiamo al mare, io pensavo mi facesse fare il bagno, mi facesse giocare con la sabbia e invece sono qua, dopo me lo compro il bombolone, ma che bombolone vai da tra un po' si va a casa, altro che guarda lì sembra che piova a breve, non è vero, ma come no ci sono tutti i nuvoloni, dai ok, allora siamo qui per fare cosa, anzitutto di che cosa sei, io sono una splendida pecorella, no non sei una pecorella, come no, no non sei una pecorella, sei un c, sono un canarino, no un un co, un co, sono un coniglio, no dai Arturo, non sei un coniglio, cosa sei, un cocco, sono un cocomero, non sei un cocomero, un cocco, cocomero, no che cocomero, dai un cocco, sono un cocco di mamma, me lo dai un bacino, no non c'entra ora, dai sei un cocco, dammi un bacino, uno solo, grazie, anche io bacino, no un co, anche io bacino, vai, che schifo mi ha leccato tutto, vai, che sei, un cocco, sei un cocco, coccodrillo, non è vero, si che lo sei, ma dai, come dai Arturo, sei un coccodrillo, non è vero, si, ma dai, ma dai, sei un coccodrillo, dovresti essere fiero, dai, siamo qui per far cosa, per fare gli scemi, no, dai Arturo, non siamo qui per fare gli scemi, siamo qui per fare un bel gioco di magia, in un ambiente fantastico, quale è questa spiaggia qua, non è vero, lui era solo, non sapeva che fare, e ha detto facciamo un video, non è, non è così, Arturo, non è così, perché mi fai l'occhiolino, non ti sto facendo l'occhiolino, mi era andato qualcosa nell'occhio, mi stavi facendo l'occhiolino, vabbè, insomma, dai, rifacciamo vedere un bel gioco di magia, non ci penso nemmeno, dai, quanti soldi mi dai? Non ti do neanche un soldo, si era detto che facevi il bravo, venimi qui e facevi il gioco di magia, te mi ha detto che mi facevi nuotare, mi andavi il bombolone, e stai zitto, dai Arturo, zitto, ok, facciamo il bel gioco di magia, ti stanno guardando, ma chi mi sta guardando, non c'è nessuno, ci sei cascato, testa di velluto, dai, facciamo un gioco di magia, vai, ok, non guardare, quale facciamo? Quello con le carte, ok, non mi urlare nell'orecchio, mi dà un fastidio enorme, ok, non mi urlare, ok, falla finita, evviva la Rita, ma che Rita la devi piantare, vada a nuotare, oh, sono furibondo, e io sono il re del mondo, guarda Arturo, che io tiro vino, e io lo bevo il vino, ma perché devi di queste mischerate, me le hai insegnate te, le hai scritte e me le hai fatte studiare, va bene, vai, allora, prendiamo una carta, ti non guardare, non guardare, ti ho detto di non guardare, vai, la facciamo vedere a loro, prova a indovinare che carta è, il sette di fiori, bravo, grazie, proviamo con un'altra, come hai fatto? È una magia, hai ragione, prendiamo questa, non guardare, guardare, che carta è? Non lo so, il nove di fiori, bravo, grazie, me l'hai detto te? No, non te l'ho detto io, dai, proviamo a fare l'ultima, prendiamo questa a caso qui, così, la mostriamo, che carta è questa? Questa non lo so davvero, dai, che carta è? Che schifo Arturo, dai, che carta è? La donna di fiori? Sì, ma come hai fatto? Sono un maga? Bravissimo Arturo, senti, io sono rimasto basito, adesso posso andare a fare il bagno? No, un po' andrà a fare il bagno, sei un pupazzo, se fai il bagno ti impregni d'acqua e vai giù, e io lo faccio uguale, non lo puoi fare uguale, poi ti dovrei dare il braccio e te vai, e che faccio io? Te mi salvi, si anneco? Non ci penso nemmeno, poi fra un po' devo andare via, andare via? E dove vai? E vado a mangiare, a far fatti miei, e me mi lasci al mare? No, ti devo mettere nella sacca, io sempre nella sacca e lui va sempre al mare, io a lavorare e a te a divertirti, ma non è vero, dici una marea di cavolate, dai, saluta i nostri amici, ciao ragazzi, possiamo fare un altro video? Eh, ora guardiamo, dai, c'è un'altra magia, certo che ce l'ho, a dopo ragazzi, vi mando un bacio grande come il mondo, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, non mi urlare, ok?